Una giornata, una sola giornata nella vita di un uomo raccontato in un libro, possiamo parafrasare l'Ulisse di James Joyce, fatte le debite proporzioni, ma non andiamo così nella complessità, è l'ultimo romanzo di Alain Elcan, uno scrittore prolifico, interessante, autore di molti romanzi, italo-francese. Elcan con questa giornata racconta i trassalimenti e i bilanci un po' angosciosi alla fine di un uomo che sta per andare in pensione, un celebre direttore di un grande museo, potrebbe essere il direttore dell'Uvro a Parigi, si chiama Edmond Beauvais Maurice, di madre ebrea, genitori strani che sono morti, lui ha candidato all'Académie Française che sarebbe il coronamento prima di andare in pensione dalla sua giusta ambizione, ha un matrimonio fallito alle spalle, ha una relazione con una donna più giovane che però magari è un po' problematica, ma poco importa. Edmond Beauvais Maurice deve fare i conti in questa giornata con alcune rivelazioni sul passato della propria famiglia, il padre era resistente nella lotta partigiana contro i nazisti, ma la madre con uno strano cognome e la nonna soprattutto, forse erano colluse con gli occupanti tedeschi, qui c'è una macchia sulla famiglia che sta per saltar fuori, ma soprattutto sta scricchiolando tutto ciò che costituìò la forza di quest'uomo elegante, affascinante, compito, non è un artista ma sa dirigere bene il museo degli artisti, non è uno scrittore ma sa scrivere dei saggi di storia dell'arte e tutto ad un tratto viene a galla tutta la precarietà e allora c'è questo rendiconto, c'è questo bilancio di quest'uomo che da uno sguardo preoccupato alla sua vita, al mattino si alza con piccoli problemi quotidiani, lui dice alla cameriera le sembra ingrassato e lei dice forse un po' ma poco, insomma piccole angustie degli uomini di una certa età e poi a poco a poco però le cose si fanno più spesse. Questo è il piano della storia di un uomo in 24 ore, l'altro piano è Parigi, Parigi scrotato con una minuzia topografica precisissima che ricorda il grande Modiano, il contemporaneo francese vivente, premio Nobel della letteratura. All'Enel Cannes narra Parigi con tutti i nomi delle strade, gli slarghi, le piazze, i palazzi, le atmosfere, gli alberi, i ristoranti, i musei, tutto viene ricostruito perché la memoria di Parigi è la memoria anche di una vita. Un romanzo interessante perché uno si rispecchia e si ritrova, il tempo dei bilanci se si è onesti verso se stessi e sembra anche un po' amaro. Alain El Cannes, Una giornata